Per tutto il mese di dicembre, appena dopo il tramonto, sopra l'orizzonte ovest brillerà la bella Venere. Dopo il sole e la luna è l'astro più luminoso del cielo. Non potrete confonderla. Anche l'osservazione telescopica è spettacolare, Venere mostra chiaramente la sua fase. Nelle sere di dicembre, rivolgendo lo sguardo ad ovest, vedremo scomparire dietro l'orizzonte le costellazioni estive. Ancora alto nel cielo brilla il ben riconoscibile quadrato di Pegaso, circondato dalle costellazioni autunnali. Spostando lo sguardo verso est il cielo è illuminato dalle luminose stelle indernali, arricchite dalla presenza del brillante Giove. Il gigante del sistema solare sarà facilissimo da individuare, si tratta infatti dell'astro più brillante ben visibile per quasi l'intera notte. Poco più in basso la bella costellazione di Orione, mentre appena sopra l'orizzonte sorgerà Sirio, la stella più brillante del cielo. Poco più in basso la bella costellazione di Orione, mentre appena sopra l'orizzonte sorgerà Sirio, la stella più brillante del cielo. Poco più in basso la bella costellazione di Orione, mentre appena sopra l'orizzonte sorgerà Sirio, la stella più brillante del cielo. Poco più in basso la bella costellazione di Orione, mentre appena sopra l'orizzonte sorgerà Sirio, la stella più brillante del cielo.